Un saluto, benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Pour Parler. Pour Parler è la rubrica di Sofia, la filosofia in festa, che riunisce alcune tra le più importanti voci culturali e soprattutto voci filosofiche. Saluto quindi il nostro ospite, siamo molto felici che abbia citato il nostro evito, il filosofo Giovanni Bognolo. Salve professore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti quanti coloro che sono così fortunati di ascoltare. Con il quale chiacchiereremo del suo ultimissimo libro, Molti, discorso sull'identità plurime, uscito per Bollati Boringhieri. Un libro che non è affatto facile descrivere in una breve introduzione, in quanto riesce davvero a far dialogare moltissime voci. La pluralità, la molteplicità è d'altra parte il tema fondamentale di questo libro. Voci dei personaggi che Bognolo prende dalla letteratura, Tostoi, Pirandello, Proust, dalla filosofia naturalmente e dalla storia, e che fa dialogare come in una sorta di variegata orchestra, o in un intreccio narrativo un po' senza limiti di tempo e di spazio. E tutte per risolvere una questione che è d'altra parte una delle più grandi questioni filosofiche di sempre, se aveva ragione Kant a dire che la filosofia ha come problemi ultimi quelli dell'anima, del mondo e di Dio. Ed è la questione che risponde alla domanda, tanto semplice e disarmante, che chiede chi sono. Ecco, prima di addentrarci nel contenuto di questo testo vorrei chiedere a Giovanni Bognolo, qual è stato il motivo che l'ha spinta a scrivere questo libro e qual è stata, se ha piacere di raccontarla, la sua genesi? Beh, non è che ci sia un motivo scatenante, nel senso che nel corso degli anni, che ormai sono anche abbastanza, si legge, si legge di letteratura, si legge di filosofia, si fanno delle riflessioni poi, avendo dovuto percorrere centinaia e centinaia di chilometri in treno sia in Italia o in aereo, in giro per il mondo, il miglior compagno è un libro e questo tema dell'identità, assieme a un altro tema che mi è caro, mi è sempre stato presente. Finché a un certo momento, improvvisamente, uno si rende conto, beh, ho forse tutto quanto quello che mi serve per scrivere un librettino intorno a questo tema e cercare di mettere su carta le riflessioni che sono state fatte leggendo Proust, leggendo Tolstoi, leggendo Pirandello, leggendo Shakespeare, così, insomma, non vi è un motivo scatenante. A un certo momento il frutto è maturo e uno dice, beh, proviamo a mangiarlo. Certo. Ecco, lei scrive all'inizio del libro, se interpreta correttamente, che ogni discorso sull'identità presuppone anche un discorso sulla coscienza della propria identità. Ecco, cosa significa essere, per lei, essere coscienti di se stessi? E come essere coscienti di se stessi se l'identità è qualcosa di plurale e di molteplici? Certo. Dunque, questo qua è un problema. Bisogna però cercare subito di disambiguare alcuni termini. Innanzitutto, quando si parla di identità, non si parla di identificazione. L'identificazione la fa la polizia, la fanno i carabinieri, la fa il medico forense, andando ad esaminare i tratti somatici, il DMA, eccetera, eccetera. L'identità è un'altra cosa. Vi è un'enorme discussione all'interno della storia della filosofia, soprattutto in ambito metafisico, in ambito ontologico, di che cosa sia l'identità. C'è l'identità sincronica, l'identità diacronica. Quella che io tratto non è questa, ma è l'identità esistenziale, ovvero sia il fatto che uno a un certo momento dovrebbe chiedersi chi io sono. E attraverso l'analisi di questi personaggi fittizi della letteratura, specialmente all'inizio con Ivan Illich, che mi permette di introdurre, cerco di mettere in luce il problema che mi sta a cuore, cioè chi io sia per me stesso. Ed è qualche cosa che, secondo me, può essere non risolto, ma può essere affrontato e sarebbe auspicabile che ognuno di noi lo facesse, ponendosi alcune domande. Ecco, Ivan Illich è un po' quello che apre, insomma, la pista e questo suo percorso, no? Personaggio, appunto, tostoiano che si pone questa domanda esistenziale proprio nel momento ultimo della vita, no? Certo. In cui magari è anche difficile poi fare, recuperare quello che è, riuscire a cambiare. Però se l'identità è qualcosa di plurale, di molteplice, appunto, come risolvere questo, districarsi in questa coscienza di se stessi? Dunque, io parto dal presupposto, un presupposto che ha anche delle giustificazioni tratte dall'antropologia culturale, ma anche soltanto dalla riflessione storica di quello che è accaduto, che non vi sia un'unica identità con la quale uno riesce a identificarsi, ovvero sia ad esempio l'appartenenza a un certo gruppo, ma che in funzione del gruppo a cui appartiene, delle relazioni sociali che intrattiene, del modo che ha di affrontare i casi della vita o anche la capacità di conoscere i fondamenti dei gruppi a cui appartiene, uno ha più possibilità di essere diverso, di essere plurimo. E questo non è un problema di schizofrenia, affatto, ma è soltanto un rendersi conto che noi siamo cose diverse, reagiamo in maniera diversa, in situazioni diverse. Allora, il problema è non tanto quello, oh Dio, sono molti, ma ah, che fortuna, sono molti e la fortuna mia è anche rendermi conto che si è molti. Ad esempio, io sto interagendo con lei, finita questa interazione, io mi posso chiedere, ma come sono andato? Mi è piaciuto? Cioè, come mi sono comportato con lui? Sono stato onesto? Non sono stato onesto? E così in tutte e quante le situazioni della vita. Quindi è relativamente facile. Non è altro che il risultato, questa consapevolezza dell'identità plurima, di una sorta di esercizio spirituale che noi tutti dovremmo fare. Certo. Ecco, una cosa che stupisce di questo libro è la capacità appunto con cui fa convivere da una parte la varietà, la pluralità narrativa nella scelta dei personaggi che mette in campo e dall'altra anche il rigore filosofico, perché lei alla domanda come si indaga appunto l'identità esistenziale risponde in maniera abbastanza decisa, abbastanza aristotelica, dicendo che si possono grossomodo aggruppare in quattro i tipi di identità. Ma poco dopo dice anche che non possiamo arrivare a una conoscenza assoluta dell'identità. Ecco, quali sono i binari nei quali si muove il discorso dell'identità? Quali sono i limiti nella nostra conoscenza? Beh, innanzitutto vi è da dire che io appartengo a una tradizione filosofica che del rigore ne ha fatto bandiera, che non è la tradizione filosofica che adesso chiamano analitica, ma che potrebbe essere anche la tradizione filosofica medievale che si basa sulla struttura ben formata della disputa filosofica. E quindi è una forma mentis il rigore e l'analisi dei temi. In realtà le quattro scansioni che io propongo non sono affatto delle scansioni, le uniche scansioni possibili, ma sono quattro scansioni che introduco in maniera del tutto euristica per riuscire a trovare un bandolo. E sicuramente non sono le uniche. Forse sono quelle necessarie, cioè chiedersi chi io sia in funzione del gruppo a cui appartengo, chi io sia in funzione delle relazioni sociali che ho, chi io sia in funzione degli accadimenti, e soprattutto che io sia in funzione della mia capacità epistemica, la mia capacità conoscitiva di conoscere i fondamenti dei gruppi a cui appartengo. Non sono le uniche e soprattutto queste identità, non sono identità tra di loro totalmente staccate, ma sono qualche cosa che si competono. Cioè è difficile che io riesca a rispondere alla domanda da chi io sia quando faccio parte di un gruppo, dal fatto che chi io sia quando ho una relazione sociale, perché la relazione sociale può dipendere dal modo in cui io sono all'interno di un gruppo o anche dal modo in cui l'altro è all'interno di un gruppo. Quindi è tutto estremamente interconnesso, però per una funzione puramente euristica, per una metodologia, chiamiamola, acquisita come modo di pensare, a loro ho ritenuto di offrire questa scansione, che è del tutto euristica. Io sono stato tra l'altro un po' combattuto, mentre preparavo l'intervista, nello scegliere quali dei personaggi che ho detto in gioco, diciamo, prelevare per la nostra conversazione. Devo dire che però poi ho scelto, perché a un certo punto lei parla di un'identità accidentale, no? e vorrei leggere un breve passo del suo libro. In effetti la vita di tutti noi è costellata da eventi più o meno casuali, che possono perturbare la linearità riscontrata fino a un dato momento, una malattia, un incidente, una vincita all'otto, una promozione. E Pio Manti dice, questo evento inatteso mette il primo di fronte a se stesso, così che decide di percorrere una via esistenziale totalmente diversa. è lo stesso effetto perturbativo raccontato nel ricossesso da William Shakespeare, allorché Giovanna d'Arco, la pulzella, fa cambiare idea al duca di Borgogna, che ritorna a combattere con i francesi dopo aver lottato fino a quel momento per gli inglesi. E di fronte a eventi improvvisi, quelli che un greco avrebbe considerato governati dall'idea Tiuque, che si può capire la propria identità accidentale. Tu sei quello le cui motivazioni e valori guidano il tuo modo di reagire all'evento perturbante. Ecco, ho fatto un collagio, un pochino, però il punto è chiaro. Cioè, vorrei sapere qualcosa di più su questo. Quale contesto migliore, infatti, di quello attuale, dove stiamo facendo globalmente i conti con un evento inatteso, che ha messo fortemente in difficoltà la nostra identità, e mi riferisco alla pandemia, e qual'evento migliore per parlare della natura di questa identità accidentale? Certo, e questo non è un tema che ovviamente ho inventato io, ma è un tema che appartiene a tutta quanta la tradizione filosofica, segnatamente alla grande tradizione delle scuole greche, pensiamo agli stoici, dove l'evento casuale è l'evento che ti mette alla prova. Sì, l'hanno fatti, ricordo. In epoca attuale, l'esempio più eclatante, secondo me, è dato dai virologi e dagli epidemiologi, i quali non erano minimamente considerati prima dell'epidemia, ed erano considerati dei medici di serie B, perché il vero medico cura il paziente, improvvisamente sono diventati degli oracoli e hanno avuto la possibilità di andare in televisione. E lì si sono scatenati, dimenticando scienza e coscienza, e sono scatenati in ego devastanti, che ha permesso loro di litigare con Subret, di accettare il parere del tronista, di essere accondiscendente al conduttore del talk show. Ecco, l'evento accidentale della pandemia ha trasformato questi virologi, questi epidemiologi, questi pneumologi, queste persone che non erano mai andate in televisione, che non avevano mai potuto parlare, in eroi, forse del male, forse del bene. Ma comunque questo qua è stato un evento che ha trasformato, e lì si è visto chi erano. Nel senso che uno scienziato è anche un uomo, una scienziata è anche una donna, e quindi significa che hanno vizi, virtù, significa che hanno desideri, aspettative, voglia di apparire, 15 minuti di popolarità, tanto decantati da Andy Warhol, e lì si è visto loro chi sono. Forse non nel loro lavoro quotidiano, che magari erano anche brave persone, ma nel momento dell'accidente. Tra le altre cose, vi è tutta quanta questa grandissima tradizione filosofica dell'esperimento mentale, dove porta la teoria all'estremo, per vedere se la teoria funziona, perché all'estremo c'è l'accidente che tu vedi se il tuo argomento tiene. In questo caso è un accidente esistenziale. Diventi famoso, vai in televisione, puoi parlare con Lily Grugel. Ecco, una domanda aderita a questo proposito, che facciamo sempre ai nostri ospiti. Come ha vissuto lei personalmente, filosoficamente, questo evento inatteso? E parlando appunto di identità relazionali, come pensa che muterà il nostro modo di relazionarci agli altri quando questo evento inatteso sarà superato? Dunque, come ero agito? Beh, c'è stato un drastico calo dei viaggi in giro per l'Italia, in giro per il mondo, che però sono stati suppliti dall'information technology, cioè da Zoom, GoToMeeting, Skype, eccetera, eccetera. Per cui l'attività internazionale si è trasformata da viaggi anche stressanti e incontri con persone in maniera virtuale senza lo stress dei viaggi. Vabbè, non hai potuto... Sempre così male, però così. No, utilizzare i viaggi per leggere, eccetera, eccetera. Per cui da un punto di vista delle relazioni, chiamiamo accademiche, è cambiato poco. Anzi, c'è stato molto più tempo per riflettere, molto più tempo per collaborare con colleghi in giro per il mondo, pubblicare. Cioè, devo dire che da questo punto di vista non è stato un grosso problema. È ovvio che vi è una mancanza di relazioni sociali, la possibilità di andare a cena con una collega, discutere animatamente sul nulla in un bar di Dublino o in una birreria a Monaco. Questo qua è venuto a mancare. Come prevedo il futuro? Ma tenendo conto di tutto quanto quello che ho scritto in questi anni, sarei uno sciocco a rispondere a questa domanda. Non lo so. E nessuno lo sa. Ecco, un'ultima domanda. Lei nel libro parla di cura dell'anima. Riprendendo questo concetto da Cicerone, in particolar modo da Lettuscolane Disputationes, le volevo chiedere, ma la filosofia è ancora oggi lo strumento principe, lo strumento più efficace per una cura dell'anima? Oppure altre discipline hanno preso il posto della filosofia in qualche modo? C'è sempre stata all'interno della filosofia, solo la filosofia ci ha moltato molte tradizioni filosofiche, nel senso che molti modi di fare la filosofia e molti modi di pensare all'utilizzo della filosofia, anche se alcuni non amano che la filosofia possa essere utilizzata. Secondo me la filosofia deve essere utilizzata, altrimenti è piacere per il piacere che può anche essere utile. Una grande tradizione filosofica è la tradizione che è stata enfatizzata da Pierre Hadot, ad esempio, questo grande storico della filosofia francese, quello scritto questo meraviglioso libro che è Filosofia Antica come esercizi spirituali, mostrando che vi è una grande tradizione filosofica che può essere interpretata come un ausilio per risolvere i problemi quotidiani. E per me questo qua è molto importante. Ho sviluppato, tra le altre cose, questo approccio all'interno dell'ethical counseling, o soprattutto in ambito oncologico ed in ambito medico, dove proprio strumenti filosofici possono permettere non di risolvere problemi, ma di districare problemi. Per me è fondamentale non tanto offrire, in questo caso, al paziente oppure al clinico la soluzione di un problema, ma il metodo per risolvere il problema. E questo ci viene insegnato dalla filosofia. La filosofia quindi può essere non cura dell'animo in senso che ci risolve i problemi esistenziali, ma che ci offre gli strumenti per poterli affrontare in maniera corretta. E in fondo questo librettino non è altro che un tentativo di offrire strumenti non per risolvere i problemi di chi uno sia, ma per permettergli di avere delle coordinate per poter risolvere, se vuole, se ha interesse, questo problema. Tra l'altro il counseling filosofico è qualcosa che in realtà, se non sbaglio, è che in Italia non è ancora diciamo stata del tutto sdoganata, mentre in America ha avuto una certa risonanza. C'è molto counseling e counseling in giro per il mondo. C'è un counseling filosofico, mi ricordo di essere stato in metropolitana a New York una quindicina di anni fa e c'era questo grosso manifesto che diceva se hai 100 dollari allora io ti faccio il counseling filosofico, che è una cosa diversa dai counseling psicologico, positivo e psicoanalitico, perché cerca di affrontare problemi di vita esistenziali. Poi in alcuni casi si tinge in maniera più o meno psicoanalitica, più o meno psicologica. In Italia vi sono anche alcuni tentativi di fare counseling filosofico. Quello che io invece sto proponendo da alcuni anni a livello internazionale è un counseling di tipo etico in ambito medico, ovvero sia molte volte il tragitto medico non comporta soltanto un problema clinico, ma un problema clinico collegato con un problema etico-esistenziale. Nel senso che il paziente o i parenti del paziente si trovano a dover risolvere a un problema etico-esistenziale prima di poter accettare una o l'altra soluzione che il clinico gli propone, sia in ambito diagnostico, sia in ambito terapeutico. e quindi era un tentativo di applicare tecniche filosofiche, segnatamente quelle che ci insegna il buon Aristotele nell'etica nicomachea e quello che ci insegnano in ambito medievale quando si tratta di organizzare bene una disputa, all'interno di questo tipo di consulenza. E forse ne avremo davvero molto bisogno adesso. Bene, a questo punto non posso far altro che ringraziare il professor Boniolo, grazie per essere stato con noi per aver citato il nostro invito ed invitarvi a leggere questo libro Giovanni Boniolo molti discorso sull'identità plurime Bollati Boringhieri grazie anche a chi ci ha ascoltato naturalmente e come sempre al prossimo incontro. Grazie a lei, grazie a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti.